ciao da luci oggi faremo insieme il punto losanghe costi ma con la piastrella esagonale la settimana scorsa ho pubblicato un cardigan proprio con due piastrelle esagonali il cardigan costi e molti di voi hanno trovato delle difficoltà con la piastrella quindi ho deciso di fare un tutorial solo esclusivamente dedicato alla piastrella esagonale del punto costi quindi partiamo subito con il punto partiamo col fare l'anellino magico quindi ecco qui e la catenella per fissarlo una volta fatto l'anellino magico faccio 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta e altre due maglie alte sempre all'interno del cerchio magico 2 catenelle di separazione altre 3 maglie alte nel cerchio magico 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nel cerchio magico facciamo questo per un totale di 6 gruppi da 3 maglie alte una volta ottenuti i 6 moduli da 3 maglie alte divisi dalle 2 catenelle non chiudiamo subito l'anellino centrale perché questa lavorazione tende ad arricciare e voi potreste avere difficoltà poi a trovare bene le maglie quindi col cerchio aperto rimane tutto più aperto invece di fare le due catenelle per chiudere il lavoro carichiamo il filo sull'uncinetto e nella terza catenella di inizio giro andiamo a fare una maglia alta cosicché da ritrovarci già al centro del nostro angolino ora cosa dobbiamo fare dobbiamo ricordarci di voltare sempre il nostro lavoro 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta voltiamo il lavoro carichiamo il filo e all'interno del nostro foro facciamo altre due maglie alte per un totale di 32 catenelle di separazione questo sarà il nostro primo metà angolo andiamo nel prossimo foro e facciamo un altro angolo con tre maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso foro in questo modo 2 catenelle e ripetiamo per tutti gli angoli in ogni foro dobbiamo inserire 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte arrivati alla fine del giro come potete vedere abbiamo fatto l'ultimo angolo facciamo 2 catenelle e andiamo a concludere l'angolo inizio giro quello che avevamo fatto a metà quindi entriamo nello stesso foro e facciamo le tre maglie alte mancanti invece di chiudere con le due catenelle carichiamo il filo e nella terza catenella di inizio giro ci agganciamo e facciamo una maglia alta così da ritrovarci al centro dell'angolo adesso stringiamo ecco il nostro centro ed andiamo a fissarlo con un ago tira fettuccia come vedete il lavoro già da subito inizia ad ondulare è normalissimo questo questa piastrella ha proprio la necessità di ondulare altrimenti poi non riusciremmo a piegare a l il nostro lavoro quindi è molto importante che onduli partiamo ora col terzo giro facciamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e voltiamo il lavoro nello stesso foro altre due maglie alte questo è sempre il nostro meta angolo 2 catenelle di separazione ora nel primo foro che incontriamo facciamo 3 maglie alte 2 catenelle ed ora andiamo a fare l'angolo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte 2 catenelle e ripetiamo facendo il lato in questo foro 3 maglie alte 2 catenelle e ripetiamo questo per tutto il nostro giro quindi negli angoli 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle di separazione sul lato 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e ripetiamo l'angolo questo fino alla fine del giro una volta fatto l'ultimo lato come potete vedere ho fatto le due catenelle e andiamo a concludere l'angolo iniziale con le tre maglie alte mancanti filo sull'uncinetto terza catenelle di inizio giro andiamo a chiudere con una maglia alta come vedete il lavoro inizia ad arricciare notevolmente è giusto che sia così partiamo per il quarto giro giusto 123 sì il quarto 3 catenelle si parte sempre allo stesso modo si volta il lavoro 2 catenelle nello stesso foro quindi metà angolo partenza fine e angoli saranno sempre tutti uguali 2 catenelle di separazione ora qua sul centro del lato ci sono queste tre maglie alte queste tre maglie alte non sono altri che come possiamo vedere da qua queste quindi l'inizio del rombo ora noi dobbiamo andare a crescere e lo facciamo in questo modo filo sull'uncinetto nel primo foro 2 maglie alte 1 e 2 lavoriamo le tre maglie sottostanti 1 2 e 3 nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione ricordate sempre sempre tra un modulo e sempre tra un modulo e l'altro ci sono sempre le due catenelle e andiamo a fare l'angolo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e tra 2 catenelle di separazione di nuovo andiamo a ingrandire quello che è la punta del rombo filo sull'uncinetto primo foro 2 maglie alte lavoriamo le tre maglie sottostanti e nuovamente nel foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione e ripetiamo per tutto questo giro andiamo ora a iniziare il quinto giro 3 catenelle voltiamo il lavoro sempre nello stesso modo è 2 catenelle di separazione quindi questo giro è esattamente come quello precedente 2 maglie alte negli spazi lavoriamo le 7 maglie alte sottostanti e 2 nello spazio che segue fino ad ottenere 11 maglie alte filo sull'uncinetto 2 maglie alte nel primo foro lavoro le 7 maglie alte sottostanti e 2 nel foro che segue due catenelle di separazione e andiamo a fare l'angolo 3 maglie alte 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e ripetiamo quindi 2 maglie alte nel primo foro lavoro le 7 maglie alte sottostanti 2 maglie alte nel secondo foro 2 catenelle e vado di nuovo nell'angolo continuo così per tutto questo giro ecco qui vedete siamo arrivati alla parte più larga del rombo adesso dobbiamo iniziare a stringere questo rombo e a creare le due punte per i due rombi futuri quindi partiamo con il sesto giro se non erro 1 2 3 4 5 si il sesto giro sempre l'angolo fatto nello stesso modo quindi le 3 catenelle voltiamo il lavoro e facciamo le 2 maglie alte così 2 catenelle ed ora nel primo foro non andiamo a mettere come prima come nei due giri precedenti 2 maglie alte ma ne mettiamo 3 perché dobbiamo andare a creare vedete le punte dei rombi futuri quindi andremo a stringere la parte alta del rombo che abbiamo già e andiamo a creare le due punte del dei due rombi futuri quindi catenella nel primo foro 3 maglie alte due catenelle di separazione salto le prime due maglie della blocco da undici sottostante e dalla la terza per 7 maglie le lavoro tutte 1 2 3 4 5 6 e 7 2 catenelle salto le ultime due maglie e nel prossimo foro 3 maglie alte 1 2 e 3 vado a fare l'angolo e ripeto per tutti i lati allo stesso modo quindi angolo 2 catenelle nel primo foro 3 maglie alte 2 maglie alte salto le prime due maglie del blocco sottostante lavoro 7 maglie alte salto le ultime due con due catenelle e faccio nel prossimo foro 3 maglie alte ripeto per tutti i lati partiamo ora col settimo giro come vedete la piastrella arriccia moltissimo è giusto mi raccomando non andate in panico ma deve essere così tutta arricciata vedete perché deve piegare una parte quindi per essere piatta da un lato e poter piegare dall'altro ha necessità di essere così io intanto la piego così vedete bene la piastrella vedete sta rimpicciolendo il rombo centrale ed ora andremo ad ingrandire i due neo rombi laterali in questo modo solite 3 catenelle voltiamo 3 maglie alte totali nell'angolo quindi 2 maglie alte li facciamo e la terza è sostituita dalle 3 catenelle 2 catenelle di separazione abbiamo questo gruppetto da 3 maglie a destra del gruppetto facciamo due maglie alte nel foro lavoriamo le tre maglie sottostanti a sinistra del gruppetto quindi nel prossimo foro 2 maglie alte ora le tre maglie sono diventate 7 2 catenelle di separazione questo invece dobbiamo rimpicciolirlo filo sull'uncinetto saltiamo le prime due e andiamo a lavorare le tre centrali del gruppo da 7 sottostante solo le 3 2 catenelle di separazione saltiamo le due maglie sottostanti e nuovamente 2 maglie alte all'interno del foro lavoriamo le tre sottostanti nuovamente due all'interno del foro due catenelle diamo nell'angolo come avete visto stiamo ingrandendo questo rombo abbiamo chiuso questo avevamo iniziato con tre maglie alte finiamo con tre maglie alte e abbiamo ingrandito questo quindi abbiamo fatto angolo due catenelle di separazione due maglie nel foro tre maglie sottostanti due maglie nel foro due catenelle lavoriamo le tre centrali due catenelle saltando le ultime due lavoriamo due maglie nel foro tre sottostanti due nel foro e di nuovo le catenelle di separazione per andare di nuovo nell'angolo ripetiamo questo per tutti i lati ecco qui partiamo ora con il settimo giro sempre l'angolo nello stesso modo molti amo il lavoro 2 maglie alte 1 e 2 ora 2 catenelle ed andiamo ad ingrandire quindi saltiamo le tre sottostanti nel primo foro andiamo a fare due maglie alte lavoriamo le sette sottostanti 1 1 2 3 4 5 6 7 2 nel foro che segue 1 2 2 2 catenelle e con queste due catenelle saltiamo le tre maglie sottostanti nel prossimo foro due maglie alte 1 e 2 ripetiamo lavorando le sette sottostanti che diventeranno 11 con le due due prima e due dopo quindi due nel prossimo foro due catenelle e andiamo all'angolo come vedete abbiamo chiuso l'angolo e predisposto perché ci siano di un foro per il prossimo gruppo da tre che creerà un'altra punta qui un'altra punta e qui io adesso ho finito il filato lo devo attaccare allora facciamo in questo modo ecco qua qui ce ne sarà un altro nell'angolo che crea il forellino dove noi andremo a ricreare questo giro quindi in pratica l'ottavo giro sarà come ve lo dico subito il sesto quindi l'ottavo giro sarà come il sesto da qui in poi si procederà sempre nello stesso modo dopo di che per la no il nostro cardigan non dovrete fare altro che chiudere a metà un lato e come vedete tutto l'eccesso di filato vi serve proprio per fare questo vi serve per poter piegare per poter piegare correttamente il nostro lavoro vedete in questo modo se non facesse tutto quella riccia arricciamento non si potrebbe fare questa cosa quindi è normale che arricci il vostro lavoro io spero che questa questo tutorial sia stato un po più chiaro del tutorial precedente per quanto riguarda questa piastrella avevo dato per scontato che avendo fatto già altri progetti con questo punto fosse per voi facile poterlo riprodurre così non è stato e quindi ho deciso di farvi vedere il punto in un tutorial a parte io vi saluto vi do un grosso abbraccio e vi invito al prossimo tutorial se non siete iscritti iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche ai prossimi video ciao da luci a presto